Disagi pendolari, agguerritissimi, tra l'altro è stata appena definita una delle linee peggiori, quella appunto Genova-Ventimiglia, ma qual è la situazione? Ma questo studio di lega ambiente ogni anno, ormai da 5-6 anni, definisce questa linea come la peggiore, però non tiene conto di tutto quello che si è fatto di nuovo in questi anni e vuol dire che anche i pendolari con i loro comitati ci riconoscono, tant'è che proprio ieri è uscito un articolo dei pendolari del Samonese in cui dicono che i treni dopo il cambio orario sono puntuali e che anche gli intercity che loro prendono hanno incominciato a viaggiare con puntualità, anche se non dipendono dal traffico regionale gli intercity. C'è da dire anche che è chiaro che in una linea dove da finale Ligua-Andorra c'è ancora il binario unico, è molto più complicato far viaggiare i treni veloci soprattutto perché bisogna garantire comunque gli incroci su una linea binario unico con tutte le complicazioni che ne derivano. È vero che i treni su quella linea hanno un'età media di 16 anni, però bisogna anche dire che dal 2015 a oggi sono arrivati ben 5 treni nuovi e che entro il 2021 sarà completamente finita la rinnovazione di tutti i treni che viaggiano in Liguria e quindi scenderemo un'età media di 4,6 anni che è una delle più basse in tutta Europa. Naturalmente i treni non si trovano dal concessionario, bisogna costruirli, quindi il tempo necessario per approvvigionarci è discretamente lungo. Ma questo vuol dire che programmando arriveremo finalmente ad avere uno standard di viaggio sui treni molto molto alto grazie ai treni nuovi che percorreranno le nostre linee. Abbiamo capito che uno dei problemi quindi è anche quello del raddoppio ferroviario, ma quali sono le prospettive, le tempistiche, le opinioni a tal proposito? È un'opera assolutamente necessaria, io trovo strano che dopo 30 anni si continui ancora a discutere su questa vicenda del raddoppio, che qualcuno continui a non dire che bisogna farla e in tempi bellissimi a stanziare i soldi tutti assieme per poterlo fare. Sono dei chilometri che collegano non la provincia d'Imperia con Genova attraverso la provincia di Savona, ma che collegano Francia, Europa, Francia, Portogallo e Spagna all'Italia e ai paesi dell'est. Se, come si dice, la Commissione europea andrà avanti sul corridoio merci Marsiglia-Genova diventa necessario fare il raddoppio che sarà importante anche per i passeggeri e quindi spero che il governo quanto prima dica una parola definitiva su questo raddoppio e stanzi immediatamente miliardi e mezzo più o meno di euro che ci vogliono per poterlo fare, per poter partire in modo da averlo nei prossimi anni. Certamente non è un'opera che si farà in due o tre anni, che si deve fare in più anni naturalmente, ma il mio sogno è di vederla realizzata e che si riescano anche, soprattutto qua in questa zona, nella piana di Albenga, a vincere le critiche sullo spostamento a monte del raddoppio. A mare il raddoppio non si può fare, non si possono sventrare Albenga, Alassio e Leigueglia per raddoppiare la ferrovia, quindi naturalmente bisognerà farla un po' più a monte, ma è un'opera talmente necessaria che sinceramente non penso che ci possano essere nel 2019 persone che si oppongono a un'opera che, ripeto, non migliora la vita solo dei Liguri, ma migliora la vita di tantissimi milioni di persone.